Anni scemi a meno di 24 ore, dallo svolgimento dell'attesa manifestazione nazionale, otto bandiere NoMuos svettano e sventolano all'interno della base americana di località Ulmo sulle antenne NRTF. Mossa sorpresa dunque degli attivisti NoMuos che hanno eluso la sorveglianza della polizia, raggiungendo così l'obiettivo prefissato. Altri due attivisti questa notte si sono arrampicati in cima alle antenne, mentre uno è sceso stamattina. La zona è attualmente circondata da polizie e carabinieri. Al presidio di località Ulmo sono presenti oltre 200 manifestanti che sono giunti a Niscemi da ogni parte d'Italia. Al di là dei cancelli, vale a dire nell'immediato perimetro esterno, folto i gruppi di pacifisti hanno anche loro piazzato le bandiere NoMuos sulla rete che delimita l'accesso alla base. Fra gli attivisti che sono saliti sulle antenne c'era anche Turi Vaccaro, simbolo della lotta contro il Muos. L'accesso all'interno della base da parte dei pacifisti ricade in concomitanza del trentennale dello smantellamento dei missili Cruisa Comiso, avvenuto nel lontano 83. A dare manforte ai manifestanti c'era pure Antonio Mazzeo, giornalista pacifista e profondo sostenitore della lotta contro il Muos. Non solo il territorio dice NoMuos, ma ormai abbiamo l'attenzione internazionale. Oggi è stato firmato un appello negli Stati Uniti da 20 intellettuali, primo firmatario Chomsky, che è forse uno dei più grossi intellettuali a livello mondiale, che dice NoMuos e esprime solidarietà direttamente a Niscemi. Per cui è la dimostrazione che la battaglia, che era una battaglia locale, oggi è una battaglia globale. Su questo bisogna continuare e l'azione di oggi dei compagni coraggiosissimi che hanno fatto questo vuole essere un ulteriore segnale di non accettare passivamente il volta faccia di Crocetta. Cori, slogan e canti hanno caratterizzato le fasi relative allo stazionamento sul retro della base. Gli attivisti NoMuos non hanno di fatto gradito i passi indietro compiuti dal presidente della regione, Rosario Crocetta, fortemente contestato dai manifestanti. E innanzitutto una risposta a Crocetta per il tradimento che ha operato sulla questione Muos e tutto il popolo siciliano, ma anche un incitamento alla popolazione niscemese siciliana affinché si possa riprendere con gesti altrettanto pacifici, ma di massa, quello che gli è stato sotto, cioè il proprio territorio, e liberarlo da questo impianto di morte.